e in effetti per me che sono stato liberato senza condizioni il tefer baglio si può dire la punizione è finita no ma intanto per non c'è pace la punizione continua e non c'è pace non è nemmeno indagata in italia né in belgio certo quindi se l'obiettivo è quello di danneggiare il lavoro di organizzazioni diritti umani l'obiettivo non ha bisogno di una condanna l'obiettivo è già raggiunto il lavoro è già danneggiato prima di tutto hanno sequestrato 740 mila euro dal conto corrente di non c'è pace senza esistizia a roma c'erano soldi della svizzera per il lavoro in afghanistan c'erano soldi della norvegia per l'afghanistan c'erano soldi la commissione europea per il lavoro in libia e c'erano soldi dell'open society institute sempre per il lavoro in afghanistan c'erano soldi di donors che noi abbiamo avuto con cui abbiamo avuto rapporti di fiducia per anni a cui negli possiamo ridare ne possiamo fare le cose per i quali erano stati del lavoro in Grazie a tutti.